...di sottofondo perché questo è il momento più difficile della serata. Intanto, prima di procedere con la premiazione, vorrei chiamare qua in palco il signor Giacinto Campisi, insegnante, che incoronerà la quarta, cioè Miss Vella, il sindaco, dottor Augello Antonino, che incoronerà la terza, a quest'ora le papere ci vogliono, vero Rita? Miss Samarea. La seconda sarà incoronata dal vicepresidente Francesco Maggio, giornalista, e la prima sarà incoronata da Miliziano Giulio, assessore allo sport, turismo, spettacolo, eccetera, eccetera. C'è un sacco di assessorati, quindi non ve li vado a ripetere tutti. Ricordiamo che per la prima, per la seconda, per la terza e per la quarta ci saranno le targhe e il mazzo di fiori e in più ci sarà una spilletta, mentre per le prime tre la spilletta sarà a forma di cuore e per tutte le partecipanti ci sarà una rosa. Tutto quanto è offerto dal comune. Complimenti al comune di Cattolica Araclea, evidentemente è un comune ricco, ha fatto benissimo.